In questo video vedremo insieme come connettersi a una riunione, a una lezione in diretta organizzata con Google Meet dal lato dello studente. Questo video è pensato per gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Fagagna ed altri istituti potrebbero avere modalità di connessione che leggermente differiscono. Per gli studenti che hanno già partecipato a riunioni con Google Meet l'anno scorso, fate attenzione perché le modalità quest'anno sono cambiate. Nella maggior parte dei casi, infatti, il docente vi suggerirà, e comunque se non ve lo dice fate in questo modo, di accedere alla vostra riunione attraverso Classroom. Quindi la prima cosa da fare è entrare su uno dei servizi di Google, per esempio Gmail, e scegliere da questo menu con nove pallini l'icona di Classroom. Quindi dobbiamo passare attraverso Classroom. All'interno di Classroom controllate bene di avere fatto l'accesso col vostro account scolastico, chiocciolaatelier.cipagagna.edu.it, entrate nella Classroom di cui volete collegarvi alla lezione e vedete che qui compare un link per collegarsi alla stanza dove si svolge la lezione. Vediamo cosa succede. In questo caso ci sta dicendo se stai tentando di partecipare a una riunione di Google Classroom, attendi l'arrivo dell'insegnante e quindi aggiorna questa pagina. Questo messaggio significa che l'insegnante non ha ancora avviato la riunione. Allora nel frattempo io vado ad attivarla da un altro computer e vediamo se riusciamo a farla partire. Ecco qua, adesso che la riunione è stata avviata, vediamo se facendo ricarica lo studente può entrarvi. In effetti sta avvisando che Lorenzo Tempesti partecipa alla chiamata, ora dà un piccolo errore di fotocamera, ma noi in questo momento non interessa partecipare con la fotocamera, vi chiederà il permesso di utilizzare la fotocamera e il microfono, voi fate partire e entrate all'interno della videoconferenza, qui vedete che ci sono io che sto parlando dall'altro computer. All'interno di Meet avete diverse funzionalità, tra cui quella per abilitare o disabilitare il microfono, per abilitare o disabilitare la vostra videocamera, per accedere alla chat e quindi scrivere messaggi che tutti possono leggere, naturalmente con moderazione e quando hanno senso, potete anche, se l'insegnante ve lo chiede, presentare che significa far vedere quello che c'è sul vostro schermo. Quando la lezione si è conclusa non dovete fare altro che appoggiare la cornetta e chiudere la vostra telefonata, che in realtà è una videoconferenza. Se utilizzate un dispositivo mobile, come può essere questo smartphone, dovete avere installato due applicazioni, sia Classroom sia Meet. Per accedere alla vostra riunione dovete entrare su Classroom, andare a cercare all'interno dell'elenco delle vostre Classroom, la Classroom a cui vi interessa partecipare e poi in alto a destra dovete cliccare sull'icona a forma di fotocamera o telecamera. A quel punto si aprirà in automatico l'applicazione di Meet e vi chiederà di confermare l'account che volete utilizzare. Dopodiché vi chiederà di dare consensi per accedere alla fotocamera o al microfono, se non li avete già dati, e poi vi farà entrare direttamente dentro la riunione, che però in questo momento non è ancora partita e quindi non mi ha fatto entrare. Bene, spero che sia tutto chiaro. Alcuni docenti potrebbero chiedervi di collegarvi in modi diversi. Se non vi dicono nulla, il sistema sarà questo. Per quanto riguarda i genitori che si devono connettere a dei colloqui, faremo un video apposito. Grazie per l'attenzione.